C'era una volta, 15 maggio 1618, Keplero conferma la sua terza teoria sul movimento dei pianeti. 15 maggio 1910, la nazionale azzurra di calcio fa il suo esordio battendo la Francia per 6 a 2. 15 maggio 1928, avviene la prima uscita del cartone animato Playing Crazy, dove per la prima volta vedremo Topolino e Minni. 15 maggio 1987, tale Hubertus Bars dall'Olanda arriva in Italia, arrivando anche alla numero 1 con questo brano orecchiabilissimo. Dance Around the World, lui era Richanel.